come vi dicevo come vi dicevo prima ecco qua mai so preferiti e ci sono varie vari vari programmi e football weekly france info best 2016 volume 1 la zanzara eccetera eccetera ci sono vari programmi online che voi potete scendere avete potete registrarvi e fare seguire il vostro programma direttamente online andiamo avanti usb eccetera eccetera il sistema materiale l'abbiamo finito così ritorniamo allo schermo sul sul sulla plancia che cosa abbiamo qui oltre a controllo energia chilometri la media di chilometri i chilometri che mancano e il consumo istantaneo che in questo caso è 4.9 siamo siamo intorno ai 20 21 chilometri con un litro quello sopra è la goccia quella goccia che vedete quando accelerate che funziona il motore a benzina bisogna vedere quando state consumando istantaneamente poi ci spostiamo c'è la bussola quando il navigatore attivo cioè si crea un'altra pagina subito sotto in cui potete tranquillamente vedere la il navigatore e le curve che dovete fare ti dice girare a destra con la freccia verso destra senza doverlo guardare per forza da lì in questo caso potete essere sopra un'altra pagina o comunque fare altro mentre mentre qui avrete comunque l'indicazione del navigatore poi questo va bene il programma della musica della radio vedete tutte le canzoni che stanno andando eccetera eccetera e le potete cambiare tranquillamente da qui poi questo è il lane assist che è praticamente disattivato potete attivare da da qui sul sul volante poi abbiamo la lettura dei messaggi in questo caso non c'è nessun messaggio e poi dopo le varie impostazioni del tech pack tra cui quello che vi ho appena detto la sensibilità per il sensore quando vede una macchina ferma davanti ti avverte diventando rossa la questa plancia diventa rossa ti dice frenare ok c'è la sensibilità che può essere alta che ti avverte quando la macchina ferma 200 metri altrimenti se la mente bassa come la mia la macchina abbastanza vicina cioè perché altrimenti suona praticamente sempre poi abbiamo i vari rcta e bsm che sono le varie i vari sensori laterali per quando uscite retromarcia c'è una strada dietro dovete dove arrivano delle macchine questo e questi sensori ti avvertono che c'è qualcuno e quindi tu puoi tranquillamente frenare perché dalla telecamera posteriore non riesci a vederli poi lettura dei cartelli ma questa è sempre attiva perché ti segnala praticamente qui sotto sotto sopra i chilometri attuali ti segnala la velocità che devi fare lei leggi segnali stradali solo quelli tondi e ti dice la velocità in bianco se l'entro al limite della velocità se il simbolo diventa rosso vuol dire che stai superando il limite di velocità attuale su quella strada ok e questo è utile soprattutto nelle strade nelle strade extraurbane diciamo ecco poi abbiamo modalità di guida la sport l'eco la normal consiglio a tutti di stare sulla normal perché con la eco usate molta batteria e poi dopo il motore a benzina si accende spesso per ricaricarla piuttosto che ricaricarla solo quando frenate o quando usate la b la b sul cambio che non è altro che il freno motore poi dopo avete tutte le varie impostazioni del veicolo configurazione configurazioni alle gomme per impostare la pressione delle gomme quando le gonfiate la configurate così quando le gomme si sgonfiano lui la percepisce e ti avverte impostazioni indicatore eccetera eccetera bene questo è diciamo un po tutto quello che riguarda la toyota chr un gran mezzo secondo me una gran macchina e niente ragazzi un saluto a tutti se avete bisogno di qualsiasi info per quanto riguarda sedili riscaldati climatizzatore bizzone eccetera eccetera non preoccupatevi contattatemi e vedrò di fare un video apposta solo per voi ok ciao a tutti ragazzi